Ragazzi, io con una difesa così mi arrendo. Mi arrendo proprio perché non ce la faccio neanche più ad esprimermi e mi sono anche rotto il cazzo di avere ragione ogni volta che apro bocca, sentirmi insultato dagli esperti del settore e smentirli la partita dopo. Vogliamo fare un repilogo stagionale delle volte che ha avuto ragione? Possiamo farlo. Genoa-Milan 0-1. Ragazzi, quella vittoria non è una vittoria sana. Partita dopo. Perse contro PSG, Juventus e Udinese. Con il PSG non è una vittoria a cui va dato tanto peso. Una settimana dopo, 2-2 a Lecce. Quella di Salerno è una figura di merda clamorosa e sabato, quando abbiamo vinto a Udine 3-2 al 93esimo, vi ho detto ragazzi, è successo come a Genova. Non bisogna dare tanta fiducia a queste vittorie. Non capisci niente. E il campo di Udine è difficile. E la squadra ha rimontato due gol. E cazzi di qui, cazzi di là, va a finire che poi, la mia ragione, neanche due o tre partite dopo, la partita dopo, si palesa così come l'apparizione dello Spirito Santo. Ecco, lo Spirito Santo arriva così col crocifisso, bom 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 bom. Ecco, quella è la mia ragione. La mia ragione, ragazzi, sta sul fatto che, vi ho detto a Udine, che il Milan ha preso i gol evitabili, che in attacco siamo dei cialtroni, che c'è bisogno di più attenzione. Però, c'è gente che vede soltanto i tre punti e a me queste persone si chiamano, le chiamo persone con i paraocchi. Io, siccome i paraocchi sul calcio li potevo avere a 8-9 anni, quando il Milan ha vinto con la Sampdoria, che bello! Poi cresci, guardi le partite e analizzi quanto hai vinto, quanto bene hai vinto, quanto male hai vinto. Il Milan a Udine ha vinto male. E stasera ha dimostrato che il Milan a Udine ha vinto male. Mi direi, statri, ma cosa c'entra la partita di Udine con la partita di stasera? C'entra. C'entra perché è una squadra che deve fare un percorso, che bisogna stabilire se è in crescita o in calo, o in rendimento al talenante continuo. E questa partita stasera non mi aiuta a definire questa squadra in crescita. E poi, voi mi potreste dire, però Adri Bologna ha vinto con l'Inter e poi ci ha pareggiato, rimontando due gole. E' vero, è vero. Ha pareggiato con la Juventus, gli è stato negato un rigore palese e altre mille e mila scusanti. Però, io analizzo la partita di stasera e il Milan, la partita di stasera poteva vincerla. Poteva vincerla. Poteva vincerla senza troppi patemi, senza troppe sofferenze. Poteva, magari di misura, ma fare una partita migliore. E invece ci siamo ritrovati sempre lì a parlare delle solite cazzate, delle solite errori che io da, neanche agosto, dall'anno scorso che mi lamento di queste cose, più mi lamento, più voi mi date contro, più queste cose si palesano e io a questo punto mi ritengo impotente davanti a queste cose. Il primo gol del Bologna. Il primo gol del Bologna è una lezione di calcio. È una lezione di calcio semplice, breve e coincisa. Dalla difesa, palla lunga, l'attaccante che tiene palla. Mentre che si avvicina all'area arrivano quattro compagni e non lo lasciano solo, come succede all'altra squadra che stava giocando contro, ovvero quella che porta questi colori, che il Milan in area ci manda un uomo solo, contro quattro o cinque difensori. No, la palla era di Rzigzee, il Bologna ha portato in area quattro uomini. Tira una volta, non va. Tira due volte, non va. Tira tre volte, non va. La quarta va in porta. E il Bologna, finché la palla andava in porta, verrebbe tirato. Se poi, vabbè, Mignam prende gol sotto le gambe, Ternandez scivola a ritardo, ci sono tutte le scusanti che vi pare. Quel gol era da evitare, come il gol del 2-1 dell'Udinese sabato scorso. Che quando c'è una palla in Siede Senare, la palla va buttata fuori dallo stadio. Parole di Allegri, che io appoggio in pieno. Hai un calcio di rigore. Allora, io mi faccio i cazzi miei. Però, se volete farvi i cazzi miei voi, vi rispondo che ho visto all'altra squadra di Milano dare rigori per molto meno. Chiusa questa parentesi, quello è un calcio di rigore, che comunque mettiamo a tacere le polemiche perché è stato sbagliato. Milan trova il gol del pareggio. Trova anche un bel gol, una bella azione. Forse l'unica cosa recente fatta da Calabria negli ultimi 4-5 mesi. E poi, nel secondo tempo, partiamo ovviamente, perché era ovvio che partissimo con l'handicap, col Bologna che si divora un gol e che se lo fosse divorato uno del Milan io avrei preso a testate il muro. E dopo di quello, il Milan comunque si dà una svegliata. Si dà una svegliata, però la svegliata non deve essere solo a livello di gioco. Deve essere totale. E la traversa di Renders. E la palla che sbatte sul ginocchio di Leao. Una serie di cose abominevoli, figlie, figlie, del non gioco del Milan. Perché quando tu hai, non hai un gioco, hai un gioco che non esiste come quello del Milan, però hai degli interpreti che sono di livello, perché ho sempre detto che il Milan ha degli interpreti, gli interpreti ce l'ha. Cioè è come avere dei bravi attori per un'opera di teatro e non avere il copione. Perché il Milan è quello. Il Milan ha gli attori bravi, ma non ha il copione. Il Bologna, tolti, forse due o tre giocatori, tolti Calafiori, Skorupski e Zirzee, ha degli attori sicuramente di livello molto inferiore, ma ha un copione che sa una memoria. Cosa che il Milan non ha. Il Milan non ha il copione. Il Milan naviga a braccio, a vista. Il Milan cerca di raccattare quello che capita. E quello che capita stasera è che quando arrivi in area non sai cosa fare. La palla sul ginocchio di Leao è un gol elementare. È un gol che devi saper fare, però quella è la palla. Sai se crossa o non crossa. Crossa, ti ritrovi lì, non ti ritrovi lì. È ovvio che il gol non lo fai. Occasioni che nascono sempre da individualismi o errori grossolani delle difese altrui. E questo è un anno che lo dico, un anno che non siete d'accordo con me, ma io continuerò a dirlo. Perché il gol del 2-1 nasce da una palla persa da Selemekers, è una marcatura assurda. Vi ricordo che Selemekers gioca per gli altri. Che permettono a Pulisic di crossare. Ma prima di quello c'è il secondo rigore. Netto. Dove va Ternandez? Che gioca a calcio, percepisce uno stipendio. Che se sommo tutti gli stipendi della mia azienda, non facciamo... Un anno di stipendio suo? Non sa le regole del pallone. Non sa che tu quando prendi il palo su rigore, non puoi toccare la palla. Non lo sa. Abbiamo un terzino sinistro che non sa le regole del calcio. È una cosa... A dir poco aberrante, ragazzi. Cioè, ma è grave. È gravissimo. Rigore che comunque, come al primo tempo, ti serve per poter poi... Andare a fare il gol del 2-1. E lì, ragazzi, la partita deve finire. Lì non c'è cazzi. Lì, la partita, te la sei portata in vantaggio? Direi anche meritatamente, perché il Bologna, dopo l'occasione di Zizze, al cinquantesimo, la porta non l'ha vista neanche per sbaglio. 2-1. Tu non devi soffrire l'alzamento delle squadre. e Lecce, e Napoli, e Salerno. Come si sono alzati di un po', abbiamo sempre sofferto. Il Milano o vince, o soffre. E non vince. Vittorie sofferte del Milan quest'anno? 0. 0. Tutte le partite che il Milano ha vinto, nel finale, le altre squadre si sono arrese. È un dato rifatto. Il Sassuolo a pareggiare non ci hanno ancora provato. Forse vittirò la partita di Genova. La partita, diciamo, sparte acqua della stagione. Forse quella. Quella posso darvela buona. Con la Valentina, stesso discorso. Col PSG, stesso discorso. Sono quelle vittorie che tanto sai che finirà così. Stasera, invece, gli hai dato un'occasione sola e c'è stato l'ennesimo buco difensivo. Cross, raso terra, in, praticamente, parallelo alla porta. Quattro difendenti, non difensori, difendenti. Cinque col portiere. Remignan, Kier, Reinders, Lottus Schick, Florenzi, credo. Sulla linea del passaggio, nessuno, nessuno, che intervenga sulla palla. Palla, raso terra, cross neanche teso, forte, cross, normalissimo. Nessuno che intervenga sulla palla. Arriva Terracciano che trattiene il giocatore, fa fallo, rigore, netto. Perché senza, se qualcuno avesse preso la palla e Terracciano avesse fatto quel fallo, non sarebbe mai stato rigore. Perché ha impedito a Christensen, come cazzo si chiama, di fare un gol fatto. perché Christensen su quella palla c'era, arrivava in scivolata, faceva gol tutta la vita. Remignan era già farfalle e quello era gol. Calcio di rigore netto e gol. Remignan intuisce rigore, però. È andata così. I rigori sono figli della sfiga? Forse. Però i rigori, ragazzi, vanno anche calciati. Il Milan non ha una punta, non ha un terzino, non ha un rigorista, non ha un centrocampista che faccia legna come faceva che sì e che sappia un minimo difendere. Il Milan è anche in fase difensiva, in tutte le azioni di Bologna. Tutto spaccato. Tutti avanti e quattro coglioni dietro. Che poi, quattro coglioni dietro, tu ce l'avessi tutti a disposizione, ti ditei aspetta un secondo prima di usare aggettivi. Però, Chiere e Gabbe, ragazzi, sono quel che sono e lo sapete. E continuiamo a fare sempre i soliti cazzo di errori. Prima di dire, perché io sui social scrivo poco, ma leggo. Le... Canto leggo. Quante cazzate leggo. Oggi la Juve ha pareggiato con l'Empoli. E a parte non guardo mai la classifica. Non guardo né chi sta davanti né chi sta dietro. Io. L'aggetto io ha pareggiato. Prima cosa che leggo, andiamo a prenderli. Chiuso Instagram. Subito. Chiuso. Chiuso. No, no. Io dopo una cosa così non voglio più saperne. Prima di dire andiamo a prenderli, facciamo, vediamo, siamo in lotta per qualcosa. Vi rendete conto delle partite che vengono giocate? Vi rendete conto dello schifo che ci sobbiamo ogni partita? Vi rendete conto che il Milan per fare un gol deve sbagliare il 61? Vi rendete conto o no? Perché è grave la situazione. Il Bologna meritava di perdere fino al gol del 2-1 del Milan. Poi dopo però ha meritato il pareggio. E un'altra volta che andiamo a non vincere una partita, a buttare via una partita dove la squadra avversaria è senza allenatore, ragazzi. È grave. È già la seconda. Atalanta e Bologna. È grave. È molto grave. È gravissimo. Anche stasera speravate nel miracolo e ci avete sperato male, ragazzi. Ci avete sperato male. perché io dopo Udini vi dissi oggi è andata così. Col Bologna non puoi giocare così. Hai giocato così. Poi mi chiedete perché il Milan con un allenatore bravo avrebbe 6-7 punti in più e questa è la risposta. Non vi rispondo io vi rispondo il campo. Anche lì ha fatto entrare Terracciano. Ma mi spiegate te l'utilità di Terracciano? Non come acquisto non nel Milan, eh. In questa partita Pulisic che nonostante tutto aveva messo un assist non devi giocare mercoledì neanche giovedì non c'è la Coppa Italia. Perché hai avuto metter Terracciano? C'era Simic. C'era chi ti pareva? Hai messo Terracciano che ti ha fatto il fallo da rigore. e ti sta bene così. Io che si vinco che si perda e ormai chi mi conosce lo sa Pioli Out a vita. Ci vediamo ragazzi alla prossima per un'altra bellissima avventura che sarà Flusione in Milan aspettate di arrivare di cantare vittoria ci vediamo alla prossima a Grazie.